Al via la nuova edizione della Scuola di Formazione Politica, promossa dal Forum di Formazione all'impegno sociale e politico della Diocesi di Andria. Vediamo. Analizzare questioni legate a mafie e criminalità organizzata, corruzione e gestione del territorio, giustizia ed etica. Questo è l'oggetto della nuova edizione della Scuola di Formazione Politica, promossa dal Forum di Formazione all'impegno sociale e politico della Diocesi di Andria, un percorso in cui si alternano convegni di studio e momenti di laboratorio. Nel primo appuntamento si è parlato di criminalità nel territorio con il procuratore aggiunto alla direzione distrettuale antimafia di Bari, Francesco Giannella. Il territorio della provincia Abbat subisce una pressione criminale piuttosto importante, lo testimoniano tutta una serie di atti ufficiali noti ormai a livello nazionale. Andria in particolare vede una presenza criminale storicamente presente appunto da tanto tempo, continua ad essere presente nonostante i tanti interventi delle forze dell'ordine e della magistratura. E' una situazione che va sempre affrontata con decisione, con mezzi più incisivi dal punto di vista soprattutto numerico sul territorio, che non è ancora stato dotato di tutte quelle potenzialità investigative che sono necessarie. Resta il fatto che la questione criminale è una questione da affrontare insieme, una questione di responsabilità comune. L'intervento repressivo è necessario ma assolutamente non sufficiente. L'intervento deve essere, come posso dire, di accerchiamento da tutti i punti di vista, deve esserci l'intervento delle agenzie educative, l'intervento delle amministrazioni, ci deve essere una crescita culturale, una presa di coscienza della necessità di affrontare queste tematiche in maniera globale, altrimenti si rischia di svuotare l'oceano con cucchiaino. Questa sedicesima edizione del forum della scuola politica, del forum di formazione all'impegno sociale e politico di Andria, quest'anno con una rete allargata di partner, ha come tema quello della legalità, accompagnato dal tema della giustizia sociale. In un territorio i dati parlano chiaro, martoriato dall'organizzazione criminale, dalla microcriminalità, anche dal fenomeno della corruzione. Abbiamo pensato quest'anno di porre l'accento e l'attenzione su queste tre dimensioni e guardando anche ad un risvolto positivo, quello dell'etica e della giustizia e dell'impegno, occorre appunto che lo Stato, assieme a tutte le sue componenti, quali la società civile, si impegnino per favorire le politiche del bene, oltre a contrastare il male.